Musica Prendere bentrovati, bentornati Paolo Peraro, uno dei fondatori di UQ, un'agenzia che si occupa di progettare esperienze, si occupa di innovazione ci parlerà dell'era della comunicazione molecolare, ancora una volta ritorno a questo tema che abbiamo visto stamattina abbiamo visto anche ieri proprio di questa frammentazione di fronte alla quale ci troviamo ma emerge anche la necessità poi di collegare, di trovare dei link, di trovare un senso anche all'interno di questi panorami contemporanei vediamo dal punto di vista della comunicazione con Paolo cosa sta succedendo Grazie Allora, buongiorno a tutti Dunque, sono le, più o meno le 12 e mezza, sto 12 e tre tre Siamo a Milano e domenica Se provate a unire questi tre concetti in unica parola chiave, cosa vi viene in mente? Domenica, Milano, ora di pranzo Il brunch No? No Va bene, a me venivano in mente queste tre che è la classica cosa che si fa a Milano più o meno a quest'ora la domenica Per cui mi sembrava perfetto aprire questo talk con l'immagine di un tipico brunch Che è questa Riconoscete? Che tipo di piatto è? Questo è proprio un classico brunch Straniero Sono uova e bacon Se non lo riconoscete, perché l'immagine che avete in testa del classico brunch Uova e bacon è questo L'ho un pochino più unto, un pochino più grassoccio Il fatto è che non avete riconosciuto la prima immagine Perché è un piatto realizzato con le tecniche di cucina molecolare Allora, non sono esperto di cucina molecolare E questo talk non parlerà di cucina Come Marekko non pensava Però succede che tempo fa Stavo guardando, facevo un classico zapping in tv E capita adesso un documentario che parlava di cucina molecolare Per fare breve la storia Per fare breve quello che ho capito Ho capito che la cucina molecolare si basa su questi due concetti Ovvero sulla frammentazione degli ingredienti di un piatto Frammentazione che a volte è anche chimica Per poi rimodellare questi ingredienti Fino a creare qualcosa di nuovo Qualcosa che ha un nuovo gusto e una nuova forma Vedendo questo documentario e capendo questi due concetti Ho detto, caspita, questo è esattamente quello che ho in mente La mia visione attuale di quello che sta succedendo nel mondo della comunicazione Cioè sono dei trend che sto vedendo anche Nel mondo della comunicazione in senso più allargato E quindi possiamo parlare di comunicazione molecolare Allora, comunicazione molecolare Prima di tutto parla di frammentazione Qua ho inserito alcuni loghi di progetti, di brand, di successo Di vari campi della comunicazione Quindi comunicazione, informazione, entertainment, apprendimento eccetera eccetera Sono tutti accomunati da un'unica cosa che è la frammentazione L'esempio più facile, quello da cui parto sempre Perché è quello più immediato che tutti abbiamo in mente iTunes ha rivoluzionato il mondo della musica come Frammentando il prodotto Una volta eravamo abituati a comprare l'album 10-15 pezzi iTunes ci ha insegnato a comprare la singola canzone Frammentazione è anche nel mondo della serialità House of Cards Perché ho inserito la serie T1 della Netflix? Molti di voi sapranno che fece scalpore la decisione di Netflix Di rilasciare tutta la terza serie, l'intera terza serie di House of Cards In un'unica giornata Sovvertendo per la prima volta la prima regola della serialità Che è essere seriali In un'unica giornata furono pubblicati 13 puntate di 55 minuti ciascuna Tecnicamente parlando se ci pensate Come se avessero rilasciato un lungo film di 13 ore Ma ovviamente sarebbe stato impossibile Non solo dal punto di vista tecnico Ma soprattutto dal punto di vista della fruizione Pubblicare un unico video di 13 ore E quindi hanno deciso di frammentare C'è un'altra cosa dietro a questa scelta della Netflix Di cui parleremo più avanti Hanno dato una grande possibilità all'utente La possibilità di decidere da solo il ritmo di fruizione Ovvero ci può essere qualcuno che decide comunque Di tenere una certa cadenza tra una puntata e l'altra E c'è invece chi decide di spararsi tutto in un weekend Con il binge watching eccetera eccetera Frammentazione vuol dire anche Rendere il contenuto frammentabile X-Factor Ho scelto X-Factor perché È un format che va In tanti paesi del mondo con tanto successo Gran parte del successo di X-Factor È proprio la sua frammentabilità Ovvero viene creato come un prodotto unico Uno show serale Fatto di un presentatore che tiene le fila Più X performance Gran parte del successo è generato Da ciò che avviene alla fine dello show Perché lo show viene frammentato Ci sono tanti piccoli video E questi video vanno in giro per web di vita propria E tipicamente la mole di traffico che generano È n volte più elevata delle persone che hanno visto lo show originario Frammentazione vuole dire anche brevità Il nostro cervello oggi è molto meno attratto Da cose verticali Da contenuti approfonditi e lunghi Preferiamo contenuti brevi e veloci Qua ho inserito due brand La cui caratteristica principale è stata la brevità Il TED Nel mondo dell'apprendimento Nel mondo della divulgazione scientifica La prima regola di uno speech del TED È che non puoi andare sopra i 18 minuti E poi vabbè c'è Twitter Che insomma ha fatto dei 140 caratteri Ha un po' rivoluzionato anche proprio il nostro modo di comunicare Quindi in questo senso la brevità è accentuata al massimo Conoscete questo ragazzo? È un Ha il look, la faccia del tipico adolescente Ha 16 anni In realtà non è così tipico Perché è multimilionario Si chiama Jack D'Aloisio E come a molte adolescenti della sua età Gli davano un sacco di compiti Quindi si stufava Insomma i compiti Non gli facevano troppo piacere Ha inventato un'app Che si chiama Samly Che serve a ridurre il contenuto Che serve a fare i riassunti E così li faceva automaticamente Cosa fa quest'app? Prende un lungo contenuto Un lungo testo E lo sintetizza in un testo molto inferiore Mantenendo il significato Mantenendo dei messaggi Yahoo Ha comprato quest'app per 30 milioni di dollari Cos'è la cosa interessante di questa storia? È che c'è una grossa azienda Disposta a investire così tanti soldi Per un tool Che non va ad arricchire il contenuto Ma va a impoverirlo Cioè non crea cose nuove Crea meno cose di quelle che c'erano prima E questo in qualche modo È un cambio di paradigma Perché noi siamo abituati invece a un mondo Fino a poco tempo fa In cui il volume contava Cioè molti creatori di contenuti Giornalisti venivano pagati a cartelle Ci venivano pagati in base alla quantità di contenuti che generano Chi provava a venderci le enciclopedie Provava Cioè il fattore critico Value proposition era C'erano solo tanti volumi Quindi stiamo passando in questo paradigma A un'economia del volume Cioè dove il volume è un KPI significativo A un'economia della sintesi Dove il fattore critico di successo È la capacità di sintetizzare Grossi contenuti in maniera efficace Se ci pensate La società L'azienda più potente al mondo Dal punto di vista media Google fa esattamente questo Come value proposition Prende una grossa mole di dati Infinita Il web E li sintetizza in risultati di ricerca Quindi va esattamente in questa direzione Questo ci porta alla prima regola Alla prima tecnica Della comunicazione molecolare Frammenta il tuo contenuto Oppure Rendilo frammentabile Cioè fa che ci sia qualcun altro Che lo frammenterà per te E tipicamente questo qualcun altro è l'utente Questa cosa della frammentazione Della velocità E dei contenuti brevi Va di pari passo con un'altra cosa Che sta succedendo nel nostro cervello Non è più abituato ad approfondire le cose Però deve colmare Quella sete di conoscenza Quella sete di attenzione Con Tanti stimoli Cioè vuole tante piccole cose Ma le vuole contemporaneamente Questo è un motivo per cui Sempre più spesso Ormai da qualche anno C'è proprio questo fenomeno Che mentre guardiamo la tv Facciamo dell'altro No? Che una volta non era così Tipicamente adesso ci sono molti programmi Che è più divertente Seguirli su Twitter Che non in tv Perché vedi Tutte le interazioni Che stanno generando Perché è questo? Perché ci sono La tv è tipicamente Da uno stimolo solo Da un contenuto solo Il nostro cervello A un certo punto Comincia a Non sopportare più Cioè vuole qualcosa di più E quindi Cerchiamo qualcos'altro da fare Lo cerchiamo noi stessi Tempo fa leggevo una ricerca Sui teenager americani Su come i teenager americani Passano la loro giornata media Non diceva niente di eclatante Cioè diceva le classiche cose Che ti puoi aspettare Toto ore a dormire A studiare A mangiare Andare sui mezzi Le classiche cose La cosa interessante però Era che unendo tutte le stanghette Di questa infografica Veniva fuori un totale Di 27 ore I teenager americani Vivono 27 ore al giorno Che non è merito Del fuso orario Anche loro hanno La giornata di 24 Ma è merito Di questa cosa Multistimolo Cioè che si fanno Più cose contemporaneamente Al nostro cervello piace Molto di più Che in passato Fare più cose contemporaneamente Soprattutto quando Queste cose Hanno a che fare Con il mondo digitale Questo comporta Un nuovo cambio di paradigma Stiamo passando Dall'economia della sintesi E passeremo sempre di più All'economia dell'attenzione Dove il fattore critico Di successo Sarà la capacità Di creare E attirare L'attenzione delle persone E questo Questa arena competitiva Cambierà anche Da un punto di vista economico Nel senso che Se noi siamo Se io sono un utente E sono soggetto A tre stimoli media Allo stesso tempo E magari li sto guardando Tutte e tre Chi paga per la pubblicità Non sarà più disposto A pagare per ognuno Di questi media Ma pagherà Proporzionalmente Al mio livello Di attenzione Di immersività In ogni media E quindi ci saranno Delle tecnologie Che saranno in grado Di in qualche modo Monitorare E misurare L'attenzione Verso ogni stimolo A questo punto Ci sorge spontanea Un'altra domanda Per noi creatori Di contenuti Come fare Ad attirare L'attenzione E qua sta La nostra seconda tecnica Creando livelli Diverse di complessità Ovvero Dato che sappiamo Che l'utente Andrà da solo A cercarsi Qualcosa di Aggiuntivo Da fare Tanto vale Che siamo noi stessi A forniglielo Vi faccio qualche esempio Proprio Di come le televisioni Hanno fatto Allora Il primo esempio È quello più classico A cui sicuramente Siete abituati Siamo tutti abituati A questo genere Di layout È il classico Layout Delle televisioni Di informazione Questo è Bloomberg CNN E così via Ho un canale primario Che è qua la signora Che parla Più altri canali secondari Che magari mi distraggono Dal canale primario Ma alla tv Non interessa La tv interessa Che restiamo su quel canale Quindi sono distratto Ma rimango comunque In un perimetro Deciso da loro E questo è Una cosa che C'è davvero da tanti anni Poi le televisioni Si sono fatte ancora più Sofisticate nel pensiero E hanno inventato Hanno lanciato Più che inventato Le tecnologie second screen Ovvero Mentre stai guardando La partita Mentre stai guardando La serie Io ti mando Su un altro canale In questo caso Sul tablet O sul cellulare Delle altre informazioni Aggiuntive Una sorta di realtà Aumentata Di quello che stai guardando In modo che Ti distrai Ma resti sempre In un qualcosa Che io ho deciso C'è un altro esempio Che è il mio preferito Perché non si basa Sulla tecnologia Ma sono riusciti A creare livelli Di complessità differenti Usando L'analogico Usando lo strumento Molto antico Che è il libro È un progetto È un progetto Di J.J. Abrams Magari ne avete sentito parlare J.J. Abrams È il creatore di Lost Quindi qualcuno che sa Come attirare La nostra attenzione È un classico libro Si chiama La nave di Teseo Un classico libro Che parla di avventure Di una nave Insomma La classica trama Che ci possiamo immaginare In un libro d'avventure Il fatto che Questo libro Non è però così classico Così tradizionale Perché? Perché quando lo compri E lo apri Si presenta così Ovvero Era un libro Che apparteneva A una biblioteca E in questa biblioteca C'erano due ragazzi Un ragazzo e una ragazza Che erano soliti Prendere la prestito A turni Quindi uno lo prendeva Lo restituiva L'altro lo prendeva E scrivevano A piedi pagina A lato Le proprie note Mandandosi messaggi Vicendevolmente Su quello Che stavano leggendo Vedete che questo È esattamente Quello che dicevamo Sono più livelli Di contenuto Abbiamo un livello primario Che è il romanzo E abbiamo due livelli Aggiuntivi Che sono ciò Che è stato creato Da questi due ragazzi E poi abbiamo Ovviamente un livello finale Che è di senso Nel senso che questi ragazzi Creano tra di loro Un'interazione Che l'utente Insomma Non vi rivelo Come va avanti Ma potete Potete Leggerlo C'è un'ultima suggestione Che vi voglio lasciare Che è questa Provate ad applicare La prima tecnica Che avete visto Quella classica Della CNN Al mondo Della fiction Al mondo Della narrazione Che cosa ottenete? Ottenete una cosa Che in sala Se c'è qualche regista Uno c'è Lo vedo là in fondo Ottenete lo split screen Che da annissimi Questo è uno Dei primi split screen Utilizzati al cinema È un cortometraggio Che si chiamava Suspense Sono delle tecniche Che usano i registi O i montatori Per farci vedere Quando succedono Più cose contemporaneamente Ultimamente Vediamo delle forme Di split screen Un pochino più evolute Tipo In 24 La serie Quella che si svolge Tutta in temporale Nel gioco di 24 ore Dove a un certo punto Succedono più cose Contemporaneamente Ora io credo Che in futuro Questa cosa sarà Ancora amplificata Ovvero Ci abitueremo O avremo bisogno Di vedere alcune narrazioni Alcuni film In cui magari succedono Due cose Immaginatevi Uno split screen Una parte dello schermo Racconta la storia Dal punto di vista Del protagonista Del buono Dall'altra parte Dello schermo Racconta la storia Dal punto di vista Del cattivo Con anche i dialoghi Che è una cosa Che oggi diremmo No ma mi viene mal di testa Fra un po' di tempo Il nostro cervello Forse sarà in grado Di gestirlo E anzi Ne avrà bisogno Per non annoiarsi Eccessivamente Tecnica 3 Dai all'utente Delle possibilità Cosa intendo dire? Intendo dire Che c'è una differenza Forte Tra l'utente Della cucina molecolare E l'utente Della comunicazione molecolare Per l'utente Della cucina molecolare È contentissimo Di stare rilassato Cioè si siede al tavolo Ordina L'unica interazione Che ha magari È scegliere nel menu E poi Insomma Gode Si gode la cena preparata Per fortuna O per sfortuna Non so Dipende dal punto di vista L'utente Della comunicazione molecolare Non vuole stare rilassato Cioè vuole un ruolo attivo Nella creazione di contenuti Cioè vuole entrare in cucina E a mettere a mano la ricetta Quindi la terza tecnica Va esattamente A colmare questo bisogno Diamo all'utente Delle possibilità Tanto se le prenderà comunque Ho alcuni esempi Da farvi vedere Qua si parla di interazione Oggi In questo talk Esplicitamente Non parlo di videogiochi Perché se ne parla Già tanti in altri mondi E sarebbe In altre situazioni Di queste due giorni Sarebbe anche troppo ammiccante È troppo facile Perché Perché se notate Tutte queste tecniche Sono in qualche modo Mutuate dal mondo del gaming L'interazione del mondo del gaming È la centralità Di ciò che Succede in un videogioco Vi faccio vedere un esempio Che È un esempio legato a Fiction Fiction interattive È una cosa che girava Anche tanto su Inter Sui social Tempo fa Magari lo conoscete È un video Quindi magari La regia vi può mandare Il primo video 13th Street The channel for thrillers Horror And crime The challenge The audience Should experience Horror As never before The idea The first Interactive horror movie In theaters In regular horror movies The viewer's role Is always the same With 13th Street The horror film Becomes an interactive thrill The viewers Play their own part And are able to communicate With the protagonist We developed a software That allows for such a dialogue Via voice recognition A flyer invites viewers To send their phone numbers To a speed dial database The software selects An audience member And phones him Or her Then Through voice recognition A dialogue between viewer And protagonist Takes place Hallo? Hallo! Du musst mir helfen Ich weiß nicht wo ich hier bin Ich bin Ich bin Okay The answers Are converted Into commands And the software Plays out The corresponding scene Because of this Each caller Creates A different film Not only Do the viewers Hear the protagonist's Voice on the phone They experience Her steps Her breathing Her entire fear Up close And parallel With the film Links Oder rechts Links Soll ich rauf Oder runter Runter Hör zu Da unten ist jemand Dann geh hoch Okay Was soll ich tun? Soll ich helfen? Oder weiter? Weiter Helfen Geh weiter Jetzt bist du dran Ich hab ja deine Nummer Schöss 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 Bronno Send aiutava, sostanzialmente a livello di meccanica e di interazione era molto semplice, c'era sempre da scegliere tra i B, quindi questo che sarà poi anche l'oggetto del secondo esempio che sarà invece molto più semplice dal punto di vista tecnologico ma sarà sempre una scelta tra i B. Una cosa interessante di questo esempio è che a noi, all'utente, piace l'interazione anche quando non siamo noi direttamente a interagire, cioè in questo video esempio ci piaceva, c'era una sola, più persone del cinema, però poche persone del cinema chiamate a interagire ma il vedere magari quello accanto a te, quello alla fila davanti che interagiva, ci piace molto, così come una volta ci piaceva e penso a chi era abituato a videogiocare al bar, ricordate com'era il setting, c'era uno che videogiocava e altri nove attorno che guardavano, va esattamente in quella direzione lì. Il secondo esempio è molto più semplice, non tecnologicamente ma come meccanica, era uno spot, un video spot, anche questo magari l'avete visto perché ha vinto premi, insomma è stato aggirato molto socialmente, della Honda che lanciava la nuova Honda R, ed era un video interattivo in cui quando premevi la R la storia cambiava, ve lo faccio vedere poi ne parliamo, lanciamo il video due. Grazie a tutti, grazie a tutti. Non so se qualcuno l'aveva fatto se lo ricorda, in pratica era una comune storia di un papà che accompagna i figli a scuola con la macchina, premendo il tasto R la storia cambiava, cioè passavi a una seconda storia in cui quel papà diventava un criminale, i figli non erano più figli, erano i complici e andavano a rapinare una banca, quindi era proprio sovvertita ma con lo stesso tipo di inquadrature. Perché questo esempio mi piace molto? Perché è un'interazione ridotta al minimo, ovvero quando vi parlo di dare all'utente delle possibilità, sono stato volutamente vago, perché a volte questa possibilità è davvero un'interazione minimissima, lì si poteva solo scegliere se schiacciare questo tasto o non schiacciarlo. La cosa interessante di questa interazione era che l'utente doveva rinunciare a pezzi di contenuto, ovvero mentre tu stavi guardando la storia A, non stavi vedendo quello che succedeva nella storia B e viceversa, quindi pur di poter interagire l'utente è disposto a rinunciare a qualcosa e questa sarà l'ultima cosa che vediamo. Vi lancio lì un'ultima suggestione di questa tecnica per una cosa che potrebbe succedere in futuro. Il dai all'utente delle possibilità non vuole semplicemente significare e solo significare che l'utente può decidere che tipo di storia creare, che deve essere una storia interattiva, ma può essere anche nell'esempio di cui parlavamo all'inizio di Abuse of Cards, la Netflix ha dato all'utente una possibilità nuova che è quella di decidere il ritmo di frizione delle puntate, cosa che prima non c'era, quindi l'utente non va a influire sulla storia ma va a influire sulla sua modalità di frizione. Il prossimo passaggio su questo è una cosa che in America si stava un pochino già diffondendo e sarà cambiare il ritmo della puntata stessa, ovvero c'è uno dei plugin più scaricati adesso di Chrome, è un plugin che ti consente di velocizzare o di rallentare qualsiasi video che tu stia guardando dal browser, semplicemente con due tasti, la D e la S, una cosa così. Mi incuriosiva leggere i commenti dei furitori di questo plugin, degli utilizzatori, qualcuno diceva mi ha cambiato la vita, è il plugin più importante che ho mai scaricato, tutte le cose davvero da fanatici, allora qualche mese fa l'ho fatto in modo che poi durante il posso raccontare un po' la mia esperienza. Com'è che lo uso personalmente? Lo uso tanto sui video di apprendimento, tipo i classici video del TED si possono benissimo vedere a 1.5, 1.6, tanto il cervello umano continua a comprendere a quella velocità e non c'è motivo, non sono fiction che ti stanno raccontando storie di cui la suspense è importante, non c'è motivo reale per vederli più a velocità rallentata. Ahimè lo sto usando anche per la fiction, lo dico ahimè perché c'è qualcuno magari da altra parte che scrive sceneggiature, gira film e dice ma come questo utente mi sta rovinando il mio lavoro, però se ci pensate, prodotti come Game of Thrones, ha tantissime storie intrecciate, ognuno di noi credo ha alcuni personaggi, alcune storie che lo passano molto, altre che invece salterebbe volentieri. Io vedo che sto saltando, non sto saltando, sto accelerando volentieri quelle storie a cui sono meno appassionato. Il senso è al di là di come lo uso io, vedo questo e questo è confermato dai blog che recensiscono questo plugin. Una volta che hai cominciato a usarlo, difficilmente ne puoi fare a meno. Ora io mi trovo nelle situazioni quando vedo qualche video nel pc di qualche altro collega e quindi non ho questa possibilità, ho proprio le dita che mi prudono, non riesco più ad adeguarmi a un ritmo deciso da un altro che non sono io. E questo è uno degli insegnamenti, l'interazione crea in qualche modo dipendenza, una volta che ci siamo abituati a interagire, difficilmente vogliamo tornare indietro. Ultima tecnica, che è quella che le riassume un po' tutti, crea un framework. Cosa intendo dire crea un framework e perché le riassume tutti? Il senso è, invece che creare una storia lineare, la tecnica 1 ci ha insegnato a frammentarla, quindi a farla in piccoli pezzi. La tecnica 2 è a creare livelli di complessità paralleli con questi pezzi e poi di dare all'utente la possibilità. Questa è la quarta, cioè ci dice metti tutto questo assieme, crea un universo di contenuti in cui l'utente si può muovere, si può muovere liberamente con i ritmi che lui vuole e con la complessità che lui desidera e tu hai la garanzia che rimarrà nel tuo perimetro. Se ci pensate il progetto TED sta andando in questa direzione, è fatto adesso da ormai migliaia di video, migliaia di blog, altre lezioni create peer to peer dagli utenti stessi e così via. Il senso è che ti fa rimanere in quell'esperienza dove tu ti muovi davvero liberamente, perché la molle di contenuti è talmente ampia che ti sembra di muoverti all'infinito, ma stai sempre lì. Faccio un accenno ai videogiochi, anche se avevo promesso di non farlo, però è proprio collegato. Questo ad esempio è il motivo per cui ultimamente vanno tantissimo i videogiochi con i mondi aperti, cioè i mondi dove hai la sensazione di poter scegliere quello che vuoi, non qualcosa che è stato definito dal game designer. Poi sappiamo che invece non sono mondi aperti all'infinito, ti muovi comunque in un perimetro che qualcuno ha deciso per te. Vi faccio vedere un esempio, un esempio molto bello che va proprio in questa direzione. Si chiama Prison Valley, è un documentario, è un documentario di due autori francesi che parlano di questa valle in Colorado, in America, piena di prigioni, cioè è una valle in cui ci sono 30.000 abitanti e 13 maxi prigioni, che vuol dire un impatto sul territorio devastante. Infatti fanno il documentario raccontando l'impatto, sia in termini positivi di occupazione sia negativi del fatto che ci sono così tanti prigioni in un territorio così piccolo. Cos'è la cosa interessante del documentario? È che è stato fatto forse con questa tecnica, nel senso che invece che fare il documentario nella forma classica, ovvero raccolgo il materiale e poi lo metto insieme, eccetera. Gli autori hanno deciso di mettere online tutto quello che avevano trovato in forma grezza, frammentandolo. Ovvero hanno messo online tutte le interviste, hanno messo online le audio interviste, le statistiche, le infografiche, tutto ciò che hanno trovato, in una forma che prende questo aspetto. ovvero è una cosa che si usa via, è un portale sostanzialmente, quindi si usa navigando in HTML. Quello che tu vivi è quello che loro vissero quando fecero la ricerca. Cioè tu ti muovi, il tuo punto di partenza è la stanza del motel, che era la stessa stanza del motel che loro utilizzavano. Ti puoi muovere liberamente in giro per la valle, scegliendo la strada che vuoi, incontrare delle persone che desideri. Quando incontri le persone puoi fare le interviste, quindi ti vedi il video, ti senti l'audio che loro avevano registrato, puoi accedere ai documenti e puoi accedere liberamente a tutto. Come effetto succede quello che prima è stato detto nel video, last call. Ogni utente vive una esperienza diversa, quindi il documentario non è più lineare ma è destrutturato, ognuno si vede la sua. Come suggestione finale di questo esempio, ve la provo a lanciare. Provate a vedere, a immaginare cosa può succedere con questa meccanica, con questa tecnica di creare un framework, con un prodotto che non è un prodotto documentaristico, ma è un prodotto di fiction. Ovvero provate ad applicare questa tecnica su una fiction, ad esempio Game of Thrones, dato che l'abbiamo già citata e ci piace molto anche questo personaggio. Questo è un personaggio su cui non vado avanti veloce, ma lo vedo bene. Cosa vi immaginate? Io mi immagino una cosa del genere, come la modalità multivision di Sky, dove sai quando puoi passare da una partita all'altra, passare da un'inquadratura all'altra del circuito, e quindi una situazione di questo tipo. Ho un mondo aperto, ho tutta la mappa del trono di spade, e le cose avvengono in contemporanea, come proprio nella narrazione reale, e io posso decidere dal telecomando dove focalizzare la mia attenzione. Quindi posso scegliere cosa vedere, come spostarmi, eccetera. Se ci pensate, è molto simile all'esempio che facevo prima di 24, dove hai lo split screen, ma qua l'utente ha una possibilità in più, ha la possibilità di decidere. Mentre prima lo split screen era deciso da qualcuno che aveva montato il video, mentre qua è totalmente tutto nelle mie mani. Spunti per il futuro, questo era l'ultimo esempio. Suggestioni per il futuro, cosa potrà succedere? Allora, potrà succedere, uno che queste quattro tecniche saranno amplificate, cioè queste quattro regoline le vedremo sempre di più in forma sempre accentuata. esempio, oggi questo talk era di mezz'ora, magari a qualcuno già mezz'ora sarà sembrata lunga. Tempo fa le classiche conferenze erano di due ore, ti invitavano, hai due ore, hai un'ora, adesso comincia a essere mezz'ora, al taglio 18 minuti, in futuro sarà sempre meno, probabilmente l'anno prossimo magari mezz'ora comincerà a starci stretta. Se qua da noi in sala ci fosse stato il mitico Jack D'Aloisio, si sarebbe annoiato dopo cinque minuti, perché scalpita. E quindi se avesse messo tutte le slide che abbiamo mostrato, una trentina di slide nella sua app, sarebbe venuto fuori un'unica slide di riassunto che è questa, quindi in realtà in tre minuti potevamo sbrigarcela e invece abbiamo allungato un po' la solfa. Un'altra cosa, che è un'altra prospettiva futura, è un mondo che si muove molto velocemente, per cui oggi queste cose possono valere, fra sei mesi qualcuna potrà non valere più, o magari tra un anno, quando ci ritroveremo alla prossima edizione di questo festival, magari ci saranno altre quattro regole che si sono aggiunte, che oggi non vediamo e non vediamo questi tre. Questo è tutto. E quindi appuntamente l'anno prossimo, ho parlato veloce perché mi volevi... No, no, mi fatti si vedeva che vevi attivato. Sì, finale, partito. Sì, finale, partito. che comunica come questo tipo di interazione il tempo di presenza della persona sulla pagina il livello di frammentazione del contenuto la sua personalizzazione cioè in qualche modo come secondo te potrebbe essere interpretata da noi che dobbiamo poi sviluppare questa interfaccia nel brevissimo termine non nel medio ma nel brevissimo, grazie allora, diciamo che queste cose si adattano ovviamente tanto al mondo web e anzi, il mondo web è già da qualche tempo che sta andando a colmare questo gap se ci pensate, se pensate ai siti di qualche anno fa e pensate ai siti di oggi la principale differenza che vedo è che oggi c'è la navigazione, lo scroll verticale quello che si chiama la costruzione del sito a una sola pagina in parte ci sono anche meno contenuti che ieri perché una volta, proprio come nel caso delle enciclopedie ti sentivi figo se avevi il sito grosso fatto di tanti click, fatto con un'alberatura adesso è esattamente il contrario quella cosa dell'una pagina a volte la pagina si scolla davvero all'infinito è una pagina ma è un lungo scroll quindi ci sono brand che non rinunciano a mettere contenuti però nella testa dell'utente quel fatto che sia una pagina è comunque un alleggerimento quindi il fatto di non vedere sopra le cose va esattamente in quella direzione cioè non ti spavento quando dico spavento è come quando apri un video di youtube e vedi 9 minuti 20 minuti e hai quello spavento e dici no allora smetto l'altra cosa che ho visto che ultimamente si fa se vedete i siti quelli un pochino più moderni si aprono sempre con un video a tutta pagina il video che ti racconta l'azienda ti racconta quel prodotto nel giro di 30 secondi è proprio ormai un classicone delle cose più moderne dopodiché tu puoi andare non è che ti lasciano lì hai quella che è la prima impressione poi puoi andare sotto ad approfondire eccetera che è esattamente la cosa dei livelli di complessità è l'utente che può scegliere se fermarsi lì o se andare avanti però il primo eye-catching è proprio quello breve no ti devo raccontare le cose brevemente non so se ti ho risposto ciao allora io sono designer di prodotto bello sapere anche se tutta questa teoria potrebbe applicarsi un po' all'interazione dell'utente con il prodotto fisico allora grazie allora faccio una premessa non sono assolutamente esperto in disegno di prodotto quindi dico delle cose che magari sono un po' cioè provo un po' a interpretarle come le vedrei io io credo di sì nel senso che banalmente pensate a alla facilità pensate a quando adesso aprite un elettrodomestico faccio l'esempio di un elettrodomestici che ultimamente ho comprato da TV1 una volta avevi le tante funzioni quindi una elevata complessità e quello era un fattore un plus cioè diciamo guarda fa tante cose adesso magari le tante cose le fa sempre ma hai una value proposition che è molto più limitata cioè su ogni elettrodomestico che ho comprato adesso c'è il librettino che te lo danno sempre quello grosso c'è anche un foglietto che di solito è un foglietto minimissimo che dice guarda le tre cose da sapere prima di accendere la tv o prima di accendere la cosa e questa cosa vedo che è molto non solo nel design dei materiali a completamento del prodotto tipo il foglio di istruzioni ma anche nel design stesso cioè io credo che un buon design di prodotto è fatto quando capisci immediatamente la semplicità d'utilizzo e colma esattamente quello che tu cioè ti fa capire esattamente quello che puoi fare in modo in cui volevi farlo quindi sì va esattamente in quel senso lì dovrebbe e se non è così dovremmo allinearci insomma io mi chiedo se lei sa comunicare in maniera corretta è una provocazione lei immediatamente mi parla di branch a questo punto mi chiedo no questo signore non capisce molto perché il branch inizia dalle 10 finisce alle ore 14 e poi mi sviluppa tutto questo suo ragionamento pertanto forse è il caso di conoscere la terminologia giusta per le cose e poi a questo punto svilupparle come lei ritiene giusto di farle però inizialmente il concetto branch mi fa cadere tutto ciò che è la sua comunicazione allora non sono sicuro di aver capito la domanda no forse non c'era non ho capito davvero perché il branch non è coerente nel senso siamo dalle 12 alle 14 diceva dalle 10 alle 14 sono le 12 il branch inizia alle 10 e termina alle 14 il lancio in attuazione di lavoro inizia alle 12 12.30 e termina alle 15 cioè è un aspetto cronologico si dà un nome giusto a un aspetto cronologico di servizio pertanto un breakfast è una certa ora un branch è un'altra ora la cozzola di lavoro un lunch è un'altra ora ancora il dinner è un'altra ora ancora lei non può confondere che alle 12.30 si sviluppa un branch quando invece si sviluppa dalle 10 del mattino fino alle 15 lei vuole stravolgere con no forse mi sfugge una cosa matematica ma mi sembra perfettamente in orario branch però dopo ne parliamo dopo a pranzo va bene a lunch va bene se c'è qualche altra se c'è qualche altra parola che ho sbagliato ditemi allora sì ciao io avrei una domanda sul multivision nel senso che quando lo vedo che ne so in formula 1 ho tante telecamere però non ho una sceneggiatura non ho degli effetti speciali non ho degli attori quindi applicato che ne so a game of thrones come casa di produzione ho l'idea che mi costi 10 volte 15 volte quindi volevo chiedere questo allora ovviamente sì e ovviamente quella era una suggestione che abbiamo lanciato questa cosa è reale oggi non parlo di fattibilità di qualche progetto in questo senso qua sto provando a prendere un filone per poter rispondere ma sto ancora pensando alla cosa del branch che non mi torna questa cosa delle 12 no diciamo scusa torno un attimo sull'altra domanda allora è vero non vuole avere necessariamente un'applicazione reale adesso e con le tecnologie che abbiamo oggi e con il processo produttivo che abbiamo oggi sarebbe impensabile perché lì vuol dire che hai il costo di 6 puntate per magari farne solo una quindi capisco che adesso non sarebbe realizzabile magari lo sarà tra poco perché magari cambierà qualche tecnologia oppure immaginatelo non applicato a Game of Thrones ma applicato al mondo dell'animazione quindi magari delle cose che sono un pochino più scalabili per me era davvero una provocazione e no una suggestione quindi non io mi chiedo se sei sicuro che non ci sia una sceneggiatura che non ci siano gli eroi che non ci sia una storia anche nella Formula 1 secondo me c'è anche lì probabilmente fanno il giro il giro opposto nel senso che costruiscono poi la narrazione in modo che sia entusiasmante attraente eccetera eccetera come Game of Thrones mentre Game of Thrones nasce è il reale che viene trasformato in story ma il Game of Thrones è una sceneggiatura che deve sembrare qualcosa di vero però ci sono molte similitudini secondo me c'era ancora una domanda mi sentite anche senza microfono non mi piace il microfono ah ok va bene va bene va bene Paolo no io volevo invece rispondere a quell'altra provocazione visto che ci siamo così no mi diverte no no mi diverte estremamente perché occupandomi di comunicazione affrontare o comunque capire come si sta trasformando non è una sfida semplice perché appunto anche il branch è un nuovo format tra virgolette che qualcuno si è inventato a scapito del pranzo e della colazione per cui ogni nuova tradizione è un tradimento nell'etimologia del termine e in più mi verrebbe da dire se alcuni elementi base non cambiano mai l'alfabeto non cambia la grammatica sì se io penso come comunico su Whatsapp vuoi uscire con me stasera no punto ah ma sei incazzata no 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 se metto il punto fermo uno ha cambiato anche il modo di intendere quello che uno dice quindi ci sono alcune cose che cambiano altre che non cambiano probabilmente la sfida di chi si occupa di comunicazione è proprio capire quelli che sono poi gli elementi fondamentali e immutabili e diciamo così come cambiano invece le carrozzerie della comunicazione come cambia la forma io penso alla trasformazione che ha avuto la serialità televisiva e mi sento allineato con quanto diceva Paolo o anche i factual tutti i factual nascono con il digitale perché devono essere distribuiti è cambiata la grammatica di fare televisione è cambiato il modo di fruire quindi adesso pure il branch è una cosa nuova che va capita si tratta appunto di mettersi lì a discutere intorno a un tavolo e capire cosa è cambiato e che cosa no che cosa possiamo tenere di buono non so se ho risposto perché poi mi stimola e mi provoca sta roba credo che abbiamo capito che l'anno prossimo dobbiamo fare un talk sul branch cioè la domenica faremo il branch talk attenzione all'orario però esatto sì che poi bisogna dire anche che il branch milanese non è il branch diciamo filologico originario ecco diciamo che ha incontrato un genio sloci un po' diverso ed è stato adattato chiaramente ancora domande mi fanno dei segnacci tre me dai l'ultima velocissima basta che non sia sul branch no la mia domanda è sulla questione comunicazione cioè se l'utente decide lui che cosa vuole vedere anche il messaggio se lo auto decide quindi dove va a finire la comunicazione tra l'autore e il fruttore allora va a finire in una disciplina che è il design delle scelte choice design chi crea contenuti non farà più il creatore di contenuti classico ma disegnerà scelte cioè metterà l'utente nelle condizioni di fare delle scelte che sono più o meno a lui proprie e questa sarà l'interazione il design delle scelte proprio c'è una disciplina c'è della letteratura che parla di queste delle teorie in age e così via grazie Paolo grazie davvero grazie a tutti anche per l'interazione che ha sviluppato nuove narrazioni anche all'interno all'interno di questa sala visto che l'argomento vi interessa tantissimo adesso ci andiamo a mangiare un panino alle due torniamo con Federico Pepe e Massimo Giacon che ci parleranno dell'evoluzione dello storytelling il titolo del talk è troppe storie oltre lo storytelling e insomma visto che lo modero io tornate per favore così ci vediamo alle due buon pranzo il titolo dell'evoluzione che può essere un po' di un po' di un po' di un po' di gargantua.